Benvenuti a Tef Channel News. Apriamo dalla cronaca e da un grave episodio accaduto in una scuola superiore di Perugia dove è stata affissa in aula una svastica disegnata sopra il volto di una studentessa di colore ritratta appunto nella foto di classe. I ragazzi hanno avvertito le insegnate di turno e la preside, il simbolo nazista, è stato subito rimosso ma chiaramente sono partite le indagini per risalire a chi lo ha tracciato. La notizia è stata riportata questa mattina dall'edizione appunto di Erna, del Corriere e dell'Umbria. Non appena ho avuto la notizia del gesto, ho detto al quotidiano e alla preside, mi sono recata in classe a parlare con gli studenti. Sono stati loro i primi a denigrare il fatto, tutti concordino, a ritenere che il problema sta in chi queste cose le pensa e le fa. Adesso andiamo per un attimo nella provincia di Perugia a Bastardo dove è venuto un incidente stradale proprio alle prime ore del mattino, erano le 2 e 10 della notte. Una ventura alimentata a gas dopo aver sbandato è finita contro un'abitazione e in seguito all'urto ha preso fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta. La casa ha subito alcuni danni esternamente causati dalle fiamme sul posto, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Adesso parliamo dell'E45, dei problemi relativi alla chiusura e al transito dei mezzi pesanti. Ieri un presidio di protesta da parte dei sindacati, abbiamo riportato le dichiarazioni del segretario CGL di Perugia che ha analizzato quelli che sono gli effetti sull'economia Umbra e non solo di tutte le regioni toccate dalla E45. I trasporti naturalmente sono alla base anche del buon andamento delle imprese in più settori. La presenza del Consiglio però ha negato, è una notizia arrivata nella serata di ieri, la concessione dello stato d'emergenza per disagi provocati proprio dalla chiusura del viadotto del Puleto. Confermarlo è il presidente della regione Emilia-Romagna, Bonaccini. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile con la comunicazione ai presidenti delle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria. Ricordiamo che il viadotto era stato chiuso dalla procura di Rezzo a metà gennaio per rischio di cedimento, poi parzialmente riaperto. i presidenti delle tre regioni avevano chiesto allo stato d'emergenza nazionale il provvedimento non è stato assunto perché non si sarebbe in presenza, secondo il governo, di una situazione imprevista e imponderabile e perché i problemi sollevati dovrebbero essere risolti in via ordinaria dagli enti competenti. Questa è la posizione dunque assunta dalla presidenza del Consiglio nelle motivazioni dell'iniego della concessione dello stato di emergenza. Quanto poi all'assistenza alla popolazione si tratterebbe di attività limitate e quindi anche in questo caso di attuare in via ordinaria e così come sulle misure di sostegno alle attività economiche che non possono essere ricomprese nelle categorie di intervento previste nelle norme di riferimento. Dunque queste sono le motivazioni adotte per quanto riguarda la decisione assunta dopo la richiesta anche da parte dell'Umbria dello stato d'emergenza nazionale per la situazione legata a quel tratto di E45 dopo il sequestro del gennaio scorso del viadotto Puleto. Adesso torniamo a Perugia per parlare dei vantaggi della telemedicina con il servizio di Elena Ballarani. I vantaggi della telemedicina sono riconosciuti e sfruttati in termini di efficacia, qualità e risparmio in tutto il mondo. Anche l'Umbria sta facendo passi avanti verso questa nuova frontiera e presso una struttura sportiva di Perugia i professionisti della CIMO, il sindacato dei medici e CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità hanno effettuato una dimostrazione di quello che è un'avanzata tecnologia quanto un innovativo sistema di prevenzione e analisi del paziente online. Il test ha permesso di poter monitorare soggetti con l'ausilio della tecnologia Aditec durante la fase di stress sportivo con il controllo dei livelli fisici, battiti, pressione e successivamente con lo stato di salute mediante il collegamento online telemedicina con la visita epidermica in diretta con il dottor Giovanni Portuenze dall'ospedale di Foligno. Obiettivo della telemedicina è quello di mettere ancora di più il medico e il paziente al centro di ogni strategia organizzativa della sanità ma è anche un servizio che potranno offrire i medici che si cimentano nell'applicazione della telemedicina per situazioni non immediatamente raggiungibili fisicamente. Per la sanità può rappresentare una chance di risparmio e semplificazione nell'organizzazione. Negli ultimi anni la percezione della salute, del benessere nella cittadinanza è cambiata profondamente. È cambiata la tecnologia, basti pensare agli smartphone che usiamo in maniera compulsiva tutti noi, internet che usiamo in maniera compulsiva. Cimo, il sindacato dei medici e Cida ha promosso questa giornata in uno sporting club per conoscere tecnologie di IELT e telemedicina, per sondare quella che è l'attitudine della cittadinanza verso queste tecnologie nuove, verso interfacce sicuramente innovative e per testare quella che è anche la percezione da parte del medico, quindi del clinico che sta dall'altra parte del monitor e deve fronteggiare una nuova sfida, ridefinire quelle che sono i classici canoni del rapporto medico-paziente e che vengono ovviamente stravolti. La Cida è la Confederazione italiana che rappresenta i dirigenti pubblici e privati, diciamo la comunità manageriale italiana. Noi siamo qui per attuare come con tante altre iniziative insieme alla Cimo, che è la federazione che fa parte della nostra confederazione dei medici ospedalieri, siamo qui appunto per attuare con un'esperienza concreta un po' la nostra missione, che è quella di valorizzare il ruolo della diligenza e quindi di valorizzare il senso della competenza, il senso della responsabilità e anche lo scopo di innovare proponendo nuovi servizi, nuove opportunità anche per il bene della cittadinanza e quindi in generale per la comunità. Allora, rimaniamo in ambito sanitario, perché proprio sulla sanità si concentrano le considerazioni, le ultime ore della Lega di Terni, che chiede maggiori garanzie dal nuovo piano sanitario regionale. Si scrive in una nota che circa un mese fa a Palazzo Spada si è tenuto un incontro con l'assessore regionale della sanità Luca Barberini per evidenziare gli aspetti urgenti in reti alla situazione di Terni. Spiega alla Lega che proprio nell'incontro con l'assessore della sanità si è ribadita la necessità di affrontare le tematiche più urgenti, come la bozza del programma sanitario regionale, i posti vacanti di primario e la città della salute. Secondo la Lega però al momento non si sono avute risposte definitive a questi argomenti sollevati quasi due mesi fa e riguardo al programma sanitario regionale si era proposto anche un incontro per rivedere la bozza che a parere unanime appariva penalizzante per la sanità ternana. Questa dunque è la posizione che arriva da Terni, in cui si fa riferimento anche a un aumento di primarie presso l'azienda ospedaliera che si registrano ancora oggi dopo due anni di rinvii, la mancata copertura dei posti di primario per la direzione di alcuni reparti, due fra tutti l'ortopedia e la neurochirurgia. Si fa riferimento, come dicevamo, anche nella nota della Lega rivolta proprio all'assessorato della sanità regionale della città della salute che opera da anni e aspetta di essere avviata a Terni nonostante le procedure per la realizzazione siano da tempo state espletate. Dunque queste sono le richieste che arrivano dalla città di Terni proprio in riferimento al nuovo piano sanitario regionale. Vedremo quali saranno le risposte da parte della regione a questa richiesta di ulteriori garanzie da parte del gruppo della Lega di Palazzo Spadea. Adesso andiamo a scoprire le bellezze dell'Umbria, a riscoprire anzi e a riproporre anche fuori dai confini regionali le grandi qualità della nostra regione. L'Undio 8 aprile infatti a Milano l'Umbria presenterà la sua cultura, le sue bellezze a Palazzo Barozzi. Vediamo il contributo di Paola Costantini. Promuovere a Milano le bellezze e la cultura dell'Umbria partendo dall'antica tradizione della festa più bella di primavera. Si aprirà con una colazione pasquale tipica Umbra il programma di iniziative organizzate dalla regione Umbria per lunedì 8 aprile a Palazzo Barozzi, istituto dei ciechi di Milano. La giornata in collaborazione con Città Metropolitana di Milano propone uno storytelling della tradizione Umbra intrecciata con la presentazione delle principali iniziative che aprono la stagione dei grandi eventi culturali in Umbria. E non solo. Il programma prevede due focus. Il primo dedicato al progetto Luce realizzato dalla regione nell'ambito delle azioni dell'agenda urbana che sul territorio regionale coinvolge cinque città ed il secondo dal titolo Leonardo da Vinci tra scorci di paesaggi Umbri e Lombardi al quale interverrà lo storico dell'arte Luca Tomio che ha curato uno studio di analisi dei paesaggi raffigurati da Leonardo da Vinci nelle sue opere. Dopo la colazione pasquale programmata per le 9.30 il vicepresidente della regione Umbria con delega al turismo illustrerà i principali eventi e le azioni di promozione e comunicazione 2019. Tra gli altri appuntamenti quello con il direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria Marco Pierini che presenterà la mostra Bolle di Sapone forme dell'utopia tra banita, sarte e scienza. Abbiamo superato nel 2018 riprendendoci rapidamente le 6 milioni di presenze contiamo, è stato un successo perché è la quarta volta che è successo nella storia della regione quindi ci siamo ripresi in maniera molto rapida contiamo di superare ovviamente questa performance che si era interrotta il 24 agosto del 2016 proponendo prodotti turistici e grandi eventi molto importanti soprattutto in questo scorcio di primavera Umbria Jets Spring sarà protagonista a termi con l'edizione pasquale ci sono grandi eventi presso la Galleria Nazionale di Perugia che ha fatto il 32% in più di visite dal 2017-2018 e tanti altri grandi eventi perché il turismo all'aria aperta il paesaggio è uno dei prodotti su cui puntiamo maggiormente per la ripresa turistica del nostro turismo Allora, si sono svolte questa mattina due conferenze stampa parliamo dell'appuntamento elettorale al Comune di Perugia la sala partecipazione Palazzo Cessaroni alle 11.30 invece c'è stata la presentazione del canale Umbro di Fratelli d'Italia alle elezioni per il nuovo del Parlamento europeo Michela Sciurpa all'Hotel Gio la conferenza stampa di presentazione del canale sindaco di Casa Pound Allora, i servizi sono in fase di montaggio se faremo in tempo ve li proporremo proprio nella parte conclusiva adesso occupiamoci di un appuntamento con lo spettacolo Il Maniaco tratto da un testo di Woody Allen al Teatro Bicini Paola Costantini I ragazzi della compagnia perugina Cartago Teatro hanno portato in scena al Teatro Franco Bicini di Perugia Il Maniaco per la regia di Mehdi Krajem lo spettacolo è tratto da un testo scritto da Woody Allen e pubblicato nel 1975 la commedia dai tratti noir e surreali indaga il rapporto del singolo con la propria parte folle irrazionale e nascosta e il modo in cui questa possa essere nascosta in piena vista nella vita di tutti i giorni c'è l'opportunità di imparare qualcosa sulla natura della sua pazzia perché è così cosa può spingere un uomo a un tale comportamento sociale certe volte gli stessi impulsi che spingono un maniaco a uccidere possono spingerlo a risultati altamente creativi è un fenomeno molto complesso sono alcuni degli interrogativi e delle riflessioni che suscita questa rappresentazione teatrale e che gli attori tutti di età universitaria portano in scena è sempre una bella esperienza lavorare con gli stessi universitari non ti danno questa soddisfazione che magari qualche volta mancano ti aspetti sono giovani pieni di spiriti, di entusiasmo e di voglia di fare il teatro è vita il teatro si manifesta questa forza queste energie che hanno i giovani è bello vedere i giovani impegnati a fare attività culturali come il teatro, complessa ma anche bella, bellissima come il teatro quest'anno abbiamo scelto il maniaco un testo tratto da Kleinman di Woody Allen è un testo, diciamo, una commedia nera tutto succede a New York è un quartiere di New York dove appunto c'è questo maniaco che gira e tutto il quartiere si mette d'accordo di come acchiappare questo maniaco Allora abbiamo un attimino rivoluzionato la scaletta anticipando anche la pagina culturale intanto un aggiornamento che arriva dalla USL Umbria prima di tornare su un tema che abbiamo toccato in settimana sulla questione FCU si va verso l'assunzione della gestione da parte di rete ferroviaria italiana una notizia che arriva dalla USL Umbria 1 perché i cittadini residenti proprio in questo territorio nel territorio della USL Umbria 1 sarebbero i più attivi dell'intera regione anche rispetto alla media nazionale la situazione sembrerebbe confortante quanto emerge dai dati diffusi in occasione della giornata mondiale dell'attività fisica del servizio epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della stessa USL siamo ancora in attesa dei contributi proprio da Perugia per quanto riguarda due conferenze stampa la presentazione del candidato Umbro di Fratelli d'Italia le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo intanto torniamo su un tema molto delicato per la rete ferroviaria regionale con l'ex FCU e le prospettive con la gestione che è ormai imminente da parte di rete ferroviaria italiana si è fatto un altro passaggio negli ultimi giorni sentiamo Marco Brunazzi nelle sue riflessioni di time out un time out post it per fare un'altra puntata ma se l'è meritata tutta sulla ex FCU la ferrovia centrale Umbra eroica che al momento voglio dire giace solitaria e offesa dall'erba che cresce lungo le rotaie e che però dovrebbe ripartire ripeto c'è stata una un po' stravagante inaugurazione prima di Natale speriamo però a questo punto che per il prossimo Natale si muovano i treni oltre che i nastri da tagliare allora la novità è che RFI non facciamo impazzire i nostri telespettatori con le sigle una delle società di Ferroviario Stato ha deciso finalmente il subentro allora si fa presente che Ferroviario Stato dall'Umbria bus Italia attraverso diverse società ha preso un sacco di soldi lì c'erano problemi nell'ex FCU di qualche accollo di debiti naturalmente ci voleva un po' di buona creanza si sapeva dei debiti i soldi sono entrati e bisogna poi fare del business con i trasporti sapendo che poi ci sono dei soldi pubblici ancora sul trasporto pubblico bene un passo in avanti vediamo se riusciamo ad accelerare qui stiamo andando a una velocità minima bisogna che questo diventi un problema non solo sociale ma un problema della politica e diventi e sia molto importante che tutti seguano passo passo l'evolversi di una situazione che sta diventando anche un po' ridicola per certi versi una ferrovia che non si muove e che doveva invece risolvere i problemi di tanta gente e a questo proposito concludiamo dicendo che noi seguiremo tutte le puntate bene che RFI abbia accettato di entrare nella gestione subentrata si inizia a lavorare speriamo che facciano presto che facciano dimenticare quanto è lenta la burocrazia italiana e sapendo magari si prendono una bella foto se la mettono davanti che per noi è una questione di giustizia veramente di giustizia e di buona politica ma per tanti pendolari che la mattina devono muoversi con pullman e con grandi difficoltà che tutte le mattine devono andare a studiare e devono andare a lavorare da città di Castello Umberti verso Perugia è un problema decisivo per la qualità della loro vita si mettano questi signori che ci stanno lavorando una bella foto di pendolari lì davanti e devono sapere che lavorano per loro grazie per l'attenzione Adesso due contributi curati da Nicola Agostini torniamo alle comunali 2019 l'appuntamento elettorale per il comune di Perugia oggi la presentazione del candidato sindaco di Casa Pound poi ci trasferiremo alla sala partecipazione di Palazzo Cessaroni sempre a Perugia con la conferenza stampa di presentazione della candidata Umbra di Fratelli d'Italia alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo Michela Sciurpa i contributi firmati da Nicola Agostini vediamo non ho mai avuto tessere ma sento che è il momento di mettere al servizio della comunità la mia esperienza e le competenze acquisite nel mio percorso da imprenditrice Michela Sciurpa è la carta che vuole giocarsi i fratelli d'Italia alle prossime elezioni europee madre di due figli motore trainante dell'azienda Vita Kraft insieme al padre Claudio più volte ricordato nel corso del suo intervento una candidatura presentata nella sala del Consiglio regionale alla presenza degli onorevoli Francesco Lollobrigi ed Emanuele Prisco di Franco Zaffini Marco Squarta ed Eleonora Pace è vero è una grande sfida è una sfida che mi hanno convinta ad affrontare con tutta me stessa voglio davvero fare la differenza ecco perché sono entrata in gioco ed ecco perché voglio rappresentare l'Italia le donne le imprese in Europa Giorgia Meloni sta facendo una ricerca molto importante si sta concentrando su persone con competenze e le sta invitando a far parte di questo gruppo importante io mi sono sentita chiamata in causa in questo momento in questa occasione posso certamente contribuire anche grazie al mio curriculum la mia esperienza formativa e personale io vorrei davvero essere il portavoce delle imprese delle istanze delle imprese perché è tramite le imprese che si crea sviluppo che si dà lavoro e quindi c'è bisogno di supporto alle imprese per far nascere nuove opportunità di lavoro concrete serie tra poco lo sport come avete visto per quanto riguarda invece il secondo contributo ve lo proporremo nella giornata di lunedì sempre a proposito delle elezioni in questo caso le comunali 2019 da Perugia conferenza di presentazione del candidato sindaco di Casa Pound avete invece seguito la conferenza stampa di presentazione della candidata Michela Sciurpa di Fratelli d'Italia alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo adesso lo sport qualche secondo di pubblicità torniamo subito con tutte le anticipazioni Rosini arredamenti soluzioni di arredo moderne e funzionali per soddisfare esigenze in continua evoluzione un moderno showroom e una falegnameria storica per donare ai tuoi spazi stile e personalità affidabilità gusto e qualità Rosini arredamenti la tua casa come nessuna forti infissi eccellenza italiana nei serramenti produce finestre in PVC ed alluminio da impianti all'avanguardia e processi di ultima generazione nasce un'eccellenza di serramenti che entra nelle case di tutta Italia finestre di altissima qualità create nel rispetto degli standard italiani per garantire i massimi livelli di comfort abitativo design e risparmio energetico oggi con il 50% di incentivo fiscale vieni a vedere i prodotti forti infissi nello showroom di Perugia presso Vantaggio Casa in via Sandro Penna 39 e in quello di Foligno presso Abita in via Cesare Battisti 85 DCD Studi Estetici è leader in Italia per il dimagrimento vieni a provare le nostre soluzioni innovative con Eletro Sculptur rimodelliamo tonifichiamo eliminiamo centimetri cellulite e buccia d'arancia con crioterapia eliminiamo il grasso localizzato con risultati immediati alla DCD sarai sempre sotto controllo medico e con le diete normocaloriche e personalizzate associate ai nostri trattamenti otterrai grandi risultati DCD Studi Estetici Perugia via Gerardo Dottori 93 telefono 075 527 1330 dcddimagrimento.com avevo paura di donare il sangue ma poi con questo gesto ho aiutato Elena Filippo Samir ma anche molte altre persone Pagina sportiva in questo sabato ricco di eventi ad iniziare dal campionato di Serie B di calcio partiamo però dal volley dalla grande attesa per il ritorno dei quarti di finale playoff Sir Perugia è pronta a guadagnarsi l'accesso al semifinale Scudetto Elena Ballerani Doppio obiettivo e doppio percorso per la Sir Perugia che in attesa di giocare la gara di ritorno di semifinale di Champions League con Kazan mercoledì sera questa volta in casa dei quattro volte campioni d'Europa ora si concentrano sui playoff Scudetto domenica alla Candia Arena di Monza c'è la possibilità di chiudere subito la pratica a quarti di finale dopo il 3 a 0 di gara 1 al Palabarton dove i block devils si sono imposti sui ragazzi di coach Fabio Soli con autorevolezza e con buone percentuali in attacco in maniera particolare con delle magistrali difese che hanno salvato palloni determinanti Monza tra le muramiche vorrà spingere quarti fino a gara 3 Perugia è intenzionata a chiudere la serie nel minor tempo possibile e possibilmente con il minor spreco di energie Loro sono una squadra che giocano molto meglio fuori a casa che a casa loro infatti è l'unica squadra che ha battuto qua a casa nostra quindi alla fine siamo entrati nel ritmo soprattutto con la battuta alla fine è andata molto bene un risultato 3-0 netto però ripeto il primo set era decisivo comunque C'è Monza non dimentichiamoci che il nostro percorso è parallelo il campionato è importante tanto quanto la Champions quindi sarà importante eliminare dalla testa questo rancore diciamo e concentrarci sul campionato possiamo chiudere quella pratica e concentrarci poi sulla Champions League quindi tutto possibile e io sono un sognatore quindi ci credo sicuro loro rischieranno il servizio al massimo insomma quella è la loro prima arma che se noi abbiamo palla in testa se Lucio ha palla in testa la palla precisa diventa dura per tutti loro cercano di farci giocare con palla staccata e riuscire insomma cercheranno di murare e contrattaccare Adesso un minuto della conferenza stampa di Alessandro Nessa alla vigilia di Perugia a Benevento il ritorno di Bucchi da ex recuperato Sadik tutti convocati per i Biancorossi tranne Pavlovich ancora in ritardo di condizione questa partita conta tantissimo tantissimo per tutti per tutti perché siamo tornati a Corotone amareggiati perché le sconfitte noi le subiamo anche perché ci teniamo la squadra è arrabbiata perché comunque ha fatto per me una buonissima partita in uno stadio importante ha fatto una buonissima partita gli è mancato l'ultimo guizzo negli ultimi 25 metri siamo stati ripeto quello che ho detto dopo la conferenza di Corotone siamo stati i polli con le due situazioni schierati centralmente dove noi siamo forti centralmente perché il nostro modulo soffre un pochino più sull'esterno ma centralmente ha una densità importante perciò siamo arrabbiati perché potevamo portare a casa almeno un punto perciò la squadra arrabbiata spero che sia molto concentrata e si prenda quello che vuole questa volta si deve prendere tutto perché abbiamo regalato abbiamo regalato punti abbiamo fatto qualche regalo in giro e la squadra deve avvertire questa questa arrabbiatura di essere arrabbiata è una squadra arrabbiata che capisce che ha fatto bene io sono contentissimo di quello che fanno i ragazzi perché tutto quello che chiedo fanno sono dei soldati e adesso la serie C con la Ternana che si vedrà con la Fermana in trasferta mentre il Gubbio affronta la seconda forza del campionato la Tristina i due servizi di Nicola Costini 400 tifosi a seguito per una Ternana chiamata a ritrovare quella vittoria che manca dal 26 dicembre e lontano dal liberate addirittura dal 7 novembre a Fano trasferta fondamentale per i Rossoverdi di Gallo che domani alle 16.30 scenderanno in campo a recchioni di fermo contro una Fermana che ha conquistato due punti nelle ultime tre partite Ternana chiamata a tenere da distanza di sicurezza la zona play-out ora ad appena tre lunghezze diversi dubbi di formazione per Gallo che dovrà rinunciare ancora a Paghera e Ristov i tifosi rossoverdi sperano che finisca come all'andata quando vantaggiato i defendi firmarono il 2-0 arbitra tremolata di Monza assistenti di Ambrosis e Bertelli di Busto Arsizio allungare la striscia utile l'obiettivo del Gubbio che domani alle 14.30 ospita la Triestina dopo la splendida vittoria di domenica scorsa a Monza che ha proiettato il rosso-blu di Galderisi a più 4 sulla zona play-out proprio il tecnico sarà l'ex di turno contro gli Alabardati secondi in classifica scivolati a 7 punti dal Pordenone capolista dopo il K.O. di domenica con Limolese proprio Galderisi dovrà ancora fare a meno di Piccini e De Silvestro probabile riconferma dunque del 3-4-2-1 visto a Monza l'obiettivo è provare a centrare quella vittoria al Barbetti che manca dallo scorso 20 gennaio con l'Avis Pesaro all'andata finì 2-2 arbitra De Angeli di Abbiate Grasso assistenti Catamo di Saronno e Avalos di Legnano vi lascio alla grande serata di calcio dalle 17.30 in diretta a Tutta B con Perugia Benevento e il post partita in esclusiva Nesta Microfoni di Itof Channel dalle 21 a ridosso delle 21 il calcio di Serie A con QSVS fino alle 24 grazie per averci seguito a presto